Un silenzio, un'attenzione durante tutta questa giornata, non so, credo che stare qui e risuonare con tutti questi cervelloni, ma soprattutto vorrei dire con Carlo, con i nostri amici, Carlo è un fratello nato da poco, qua nell'Utero di Ting, che non è mio, ma è di tutti. Invece Maurizio Pianetta e Picco e Zora sono fratelli delle vecchie generazioni. Una cosa, per quello che posso dire, per Eros, per gli altri che lavorano insieme a noi, per gli altri colleghi, anche il giovane oncologo Nicola Frisia, che mi ha fatto sentire la gioia di invecchiare e vedere, grazie a lui, le generazioni giovani, dei nuovi oncologi che comprendono, pensano, domandano, rispondono, ascoltano, cioè è una meraviglia. È bellissimo per me diventare vecchia e avere questi compagni che hanno degli enormi cervelloni, ma soprattutto hanno degli enormi cuori, perché noi che studiamo da tanto tempo e cerchiamo di praticare meglio possibile l'energetica della vita, secondo gli insegnamenti della medicina tradizionale cinese del Q. Abbiamo Cristina Bolza in sala che mi chiamava a questa osservazione sulla realtà energetica della realtà. Abbiamo Q. Kungheri, praticanti. Abbiamo fatto un po' di praticare, perché noi che studiamo da tanto tempo e cerchiamo di praticare. Mi ha morto, è il nostro amore. Ebbene, lui è sposato con un artista, una ragazza bellissima, giovane, con due bambini bellissimi, però ci amiamo gli stessi. Il pubblico, sempre il pubblico, alla luce del testo. Dicevo, il cuore, il cuore, lo scelto, l'energia che è la realtà dell'esistente, l'energia attraverso la quale si spiega, si cerca di spiegare, al meglio si trovano dei modelli per descrivere, comprendere come viviamo, come ci ripariamo, come, quando e per quali ragioni comunque sempre iscritte nell'amorevolezza incondizionata della vita biologica incarnata che siamo. Ci ammalliamo. Ecco, in questa visione energetica della realtà che le tradizioni orientali conoscono e praticano e studiano ininterrottamente dai millenni, mentre noi in Occidente l'abbiamo interrotta, la nostra medicina tradizionale europea cresceva come le altre e veniva avanti come tutte le altre, quelle orientali, poi abbiamo dovuto produrre alcuni illuminismi, insomma alcuni passaggi che hanno interrotto e reso clandestino l'oviluppo ulteriore di questo tipo di conoscenza e di studio e di esistenza in base alla quale il centro della coscienza, il centro dell'intelligenza, abbiamo visto in embriologia, la partenza, la nascita, il motore dell'embriogenesi, cioè dello sviluppo di ogni individuo, dalla cellulina, dallo zigote che diventa, nasce, all'atto del concepimento ognuno di noi, l'unione di uomo e spermatozoo, ebbene da lì abbiamo visto che il primo movimento, il primo organo che si forma e guida a suoni di battiti e di movimenti è il cuore, il cuore per la medicina tradizionale cinese è lo shen, tutti gli organi sono sede di shen, di coscienza, ma la coscienza imperiale, imperatrice che orchestra, la direttrice d'orchestra, delle coscienze dell'essere che siamo, Cristina se mi esprimo male, non è altra se te, corregimi, è residente nell'elemento fuoco nel cuore, quindi grandi cuori, cuori che ci uniscono, chissà se io riesco a scendere, no io sono molto felice di fare questa relazione, vorrei dire semplice, come la medicina in clinica pratica, clinica, che è pratico tutti i giorni, ma molti giorni, e come le lezioni che teniamo, che tengo in questa scuola per operatori naturali del benessere, io adesso spero di riuscire a comandare quella macchinetta lì, se non lo fa in te, grazie, questa relazione semplice su gli stili di vita, l'alimentazione, le abitudini, quello che è più nelle nostre mani, quello che dipende di più da noi, non del tutto naturalmente, però quello che è il nostro potere modificare. Io ho guardato un po' di cose, ho guardato anche un po' di libri per darvi dei dati e soprattutto per darvi dei libri da studiare, anche voi, leggere anche voi, che è solo io, e dagli studi accertati, gli studi ufficiali, non di nuovo, del gruppetto, del gruppettino di, così, alternativi, fra virgolette, dagli studi accertati, internazionali, vengono fuori questa semplice cosa, che il rischio di ammalare una malattia tumorale, per le tantissime ragioni che oggi sono state leccate, aumenta. Se noi abbiamo un'alimentazione che induce l'infiammazione, vedremo più avanti come l'infiammazione si collega a diversi esperti molto concreti della nostra vita, oltre che della nostra possibilità di ammalare, ma l'alimentazione pro-infiammatoria, molto semplicemente è quella che consigliamo continuamente, e che i nostri operatori del benessere, che non si occupano di calorie e di grammature dei cibi, ma si occupano di energia e di azione, di risposta acidificante, piuttosto che basificante, per modulare quell'equilibrio acido-base di cui si è parlato, di risposta pro-infiammatoria, piuttosto che invece disinfiammatoria, in conseguenza a una caduta di produzione di molecole cellulari che le cellule producono, che sono le prostaglandine, che sono il loro pacchetto di ormoncini personali di loro e dei loro vicini, fanno i loro ormoni per se stesse e per le cellule vicine, sono le prostaglandine. A seconda di come mangiamo, noi orientiamo nelle nostre cellule una produzione di prostaglandine pro-infiammatorie che aumentano la tendenza e l'intensità delle floresi, o delle prostaglandine invece che lascia il vaso di lata, lasciano tranquille, migliorano la circolazione, migliorano gli scambi, la danza che abbiamo visto che Carlo ci ha fatto vedere, la danza che le molecole, poi le cellule, poi i tessuti e poi tutti gli organismi siamo. Quindi, l'obesità è un fattore di sicuro, considerato causa del cancro all'intestino, ma che incentiva il rischio di cancro anche negli altri casi, negli altri tessuti, la sedentarietà, gli stress, psicoemotivi, non perché tutti quelli che si ha tutte le volte, tutti i momenti che siamo sotto stress sviluppiamo un tumore, ma quanto piuttosto alla modalità di gestione che abbiamo dei nostri stress, oltre ovviamente ai limiti del rapporto fra entità dello stress e nostra riserva energetica, in particolare surrenale, rene surrene, elemento basilare dell'energia vitale, dello Jing, dicono i cinesi, della nostra capacità di sostenere e rispondere allo stress. In Occidente sappiamo che con le suddianole surrenali produciamo ormoni per far fronte allo stress, per fare questo ci vuole un'energia in quei tessuti, una capacità di vibrare, una forza, di rispondere e generare segnali vibranti che ci rendano resilienti agli stimoli traumatici, agli stressori eccessivi o cronici, eccetera. E c'è tutto un piano di appunto cosa me ne faccio dello stress, cosa me ne faccio di un'esperienza coscienziale, per dirlo in una parola, come la utilizzo, la subisco, mi sento ancora più vittima, la utilizzo invece come occasione, palestra, esercizio, come posso dire, cavallina, che ho il corno da su cui saltare per rendermi di nuovo un po' più abile nella risposta all'occasione eventuale successiva. E posso fare questo, modulare la mia risposta di reazione, la mia reazione, a seconda di quanta energia ho a disposizione, di quanta ne posso usare. E quanta energia ho? Dipende, ovviamente, andiamo avanti, dalla vita che faccio, da se mangio dei cibi che caricano di vitalità, carichi di vita, o morti, smudellati, distrutti, ricostituiti, colorati, truccati, simulacri, i sepolcri, neanche imbiancati, colorati, sepolcri colorati di cibi che non sono più niente di naturale e che basta assaporare per renderci conto che non sono i cibi con i quali abbiamo per milioni di anni nutrito l'energia vitale dopo essere nasti, dopo essere stati concepiti dalla spinta appassionata per i nostri genitori, la nostra vitalità. Ebbene, è quella al suo obiettivo dopo? No, c'era anche questa. Allora, vorrei farvi vedere che su questa link in testa trovate, se volete, una pubblicazione che è stata fatta nel 2007 dal titolo il cibo, la nutrizione, l'attività fisica e la prevenzione del cancro. Uno studio mondiale che ha impiegato più di 190 ricercatori, 50 centri di tutto il mondo, raccogliendo come fondo mondiale per la ricerca sul cancro e in collaborazione con l'Istituto Ammire di Cancro per la ricerca sul cancro, hanno tirato fuori questa analisi su il rapporto fra alimentazione e tumori. Quindi non è lo studio, i tre casi, come posso dire, la pur vasta e capillare associazione, il punto macrobiotico che dà da mangiare a tariffe bassissime a un sacco di gente in modo curativo. È un lavoro di colossi, colossale, che viene continuamente aggiornato. Da questo lavoro associato al lavoro europeo, perché in Europa c'è stato uno studio EPIC che poi vorrei si è citato, che è stato lo studio più grosso fino a due anni fa, mi pare, quanto a campione di banca dati del sangue, banca del sangue, come appunto campioni analizzati. Ebbene, da queste ricerche enormi sono venute fuori delle linee guida delle indicazioni basate su un'evidenza epidemiologica. Serve come raccomandazioni preventive mantenersi snelli. Quindi io sono felice di avere questo compito di parlare anche di alimentazione, perché questi cervelli meravigliosi che abbiamo cuori e corpi e voci fantastiche che ci hanno insegnato delle cose bellissime, li avete visti? Qualcuno ha un po' di pancetta. E se noi li vogliamo tenere a lungo con noi, a godere della loro capacità di conoscere e comunicare della loro generosa volontà di mettere a disposizione di tutti quello che trovano, è bene che gli facciamo un cordoncione intorno, risonante, vibrante, stiamo a vedere che cosa mangiano. Quindi aiutiamoci e aiutiamo anche gli altri a mangiare meglio. Occorre, leggetemi, le sapete tutte cose che sappiamo, che devo dire, noi da 30 anni di TING lavoriamo con questi due riflettenti, frequenta le feste della salute, ne abbiamo fatto la 31esca, si è sempre parlato di alimentazione, di cibo in questi termini. Abbiamo sempre proposto questo tipo di ristorazione, c'è la cuciniera, la cuoca, che fa la ristorazione alle nostre feste, che fa questa roba. Quindi viene fuori, ecco, le cose tra parentesi e il rosso le ho aggiunte io, non mi scendono dallo studio ECHE, dalle raccomandazioni ECHE, QC, RFE, AIC, sono aggiunte mie. Mangiare, consumare abbondantemente cereali integrali, le gomme, i verduri, frutta, biologici e ben vasticati e poi in un altro punto raggiunto di stagione. Evitare bevande zuccherate e bere acqua fuori dai papi, perché evitare bevande zuccherate, limitare molto il consumo di alcol in termini di prevenzione, se siamo ammalati lo capisce chiunque, basta bere un bicchiere di vino, quando avete l'influenza è stato subito peggio, non so se avete provato. Quindi provate, se non avete ancora provato, voi lo sapete, basta mangiare un pasticcino, a me basta, se ho un affreddore che stai a mangiare un pasticcino, mi aumenta l'infiammazione di dolore e fastidio, quindi è assolutamente verificabile da tutti noi. Quindi da malati è meglio evitare, da sani si deve marcatamente limitare il consumo di questi cibi se vogliamo fare prevenzione e naturalmente soprattutto anche di quei cibi a alto carico densità calorica e con un indice glicemico elevato, perché sappiamo, dalle ricerche, l'abbiamo letto tutti, se non l'abbiamo letto lo leggerete dai libri che vi propongo, vi chiedo di prendere in considerazione, che un alto livello di insulino nel sangue, la produzione di un fattore di insulino simile che tende a far proliferare l'IGF1, le cellule, sono condizioni stimolate da questi tipi di cibi ad alta densità calorica e o alto indice glicemico e quindi ci mettono nella condizione di avvallare di più. Inoltre, siccome occorre essere abbastanza snelli, fare esercizio fisico, farlo quotidianamente, l'equivalente di almeno 30 minuti, quando siamo poco allenati, per la realtà è 60 minuti, l'equivalente di una camminata veloce, ma uno può ballare, l'altro può suonare la batteria, insomma, non è che per forza solo dobbiamo tutti camminare velocemente, però trovatevi qualcuno che si intenda di queste equivalenze e fatevi accompagnare o trovate delle cose che vi diverta a fare. Allattare al seno è protettivo rispetto al tumore al seno, mentre invece le terapie ormonali sostitutive e la terapia contraccettiva, già stato detto, sono riconosciutamente fattori di aumento di rischio di ammalare. Il fumo va evitato, anche quello passivo, e l'uso di qualsiasi tabacco, anche tabacco sniffato, anche tabacco masticato, perché ha un'azione cancerogenetica sulle strutture con cui viene contato. Le esposizioni al sole prolungate, le lampade abbronzanti, soprattutto nell'infanzia, vanno usate protezioni, ma l'ultimo punto direi proteggersi da fattori inquinanti, da inquinamento ambientale, sostanze cancerogene, di cui sappiamo il carico negli ambienti di lavoro, l'European Code, le raccomandazioni, riportano ai luoghi di lavoro, dicendo di aderire alle norme di sicurezza, alle procedure di sicurezza. Io aggiungo, modificare le habitazioni, e l'habitat, non l'ho aggiunto, ma ve lo voglio dire, e qui non ho scritto questa cosa, ma c'è Antonella, ci sono altre persone, e nel nostro libro, in caso di che adesso voi vi faremo vedere, che sta a fare da ripiano, potete trovare, se non vi conoscete, qualche spiegazione e contatto sugli EM, microorganismi efficaci, che sono batteri probiotici, ambiente, che bonificano l'ambiente, digeriscono le molecole inquinanti, smontano le molecole compresse, complesse, comprese quelle con metalli pesanti, li riducono in condizioni elementali, e quindi li rimettono in modo innocuo, le ritrasformano, in modo innocuo, nel pool della grande materia che c'è nell'organismo, nel mondo di cui noi siamo scambiatori. Ebbene, questi EM, sì, non voglio adesso spiegarvi, Antonella Urbinelli, che è qua, e che comanda le macchine, è una operatrice del benessere, che tra il resto si occupa, di diffondere e organizzare gruppi d'acquisto collettivi, se vuoi dirlo, c'è una presentazione nel nostro centro, proprio di Marte, visto che Marcella ci tiene tanto a spingere i due organismi, c'è una presentazione per descriverli nel dettaglio, nel centro, verso il mondo nuovo, Borgo Panigale, martedì, questo martedì sera, alle 8 e mezza, quindi se a poco mi interessa, può andare su un sito, verso il mondo nuovo, punto, net, e vedere il dettaglio. Verso il mondo nuovo, tutto attaccato, punto net, conferenza martedì, sugli M, su come usarli, anche questa roba molto pratica, vi dico soltanto, che costano meno, del peggior detersivo, più inquinante, quello più dozzinale, quello che costa meno di tutti, al discount, ebbene questi, se ne comprate un litro alla volta, concentrato, costa meno di quello, e riduce, moltissimi problemi, quindi ha un vantaggio economico, bonifica il nostro ambiente, intanto che bonifica, le acque reflui, gli scarichi, la terra dove arriva, i mari, i fiumi, cioè, mentre mettiamo in ordine, il nostro ambiente, per risonanza, d'azione, di lavoro batterico, che si espande, noi aiutiamo, a rimettere, a posto, a ricurire, quindi, con i nostri figli, nipoti, noi stessi, che ci ricicleremo, perché io non credo di arrivare, io sempre in ritardo, potrò arrivare a illuminare, in questa vita, e non rincarare, non credo, quindi tornerò, in un pianeta, che sarà più pulito, perché gli elfi, ne avranno, bonificato, con il vostro aiuto, se vi aspettiamo, ebbene, questi criteri, alimentari, io non vi vorrei dilungare oltre, li troviamo, con un bellissimo lavoro, di Franco Berrino, che è un epidemiologo, oncologo, dell'Istituto dei Tumori di Milano, da poco in pensione, ha scritto questo, che è un lavoro, di analisi ed esame, di moltissimi studi, sull'alimentazione, sugli effetti dei cibi, che, dal quale, ho preso quei dati, che ho messo, nelle slide, se vai avanti, secondo lui, quindi, questi studi, vedete, EIC, ECA, che sono la parte europea, più grossa, e per l'altro, la parte internazionale, americana, intercontinentale, eccetera, il sugo, se ve lo posso dire, è che un terzo dei tumori maligni, con l'alimentazione, già solo modificando, le abitudini alimentari, che possono essere benvenuti, e, aderendo a sei, o più, di quei dieci, undici, consigli, si riduncono, del 34%, le cause di mortalità, generale, cambio circolatoria, metabolica, diabete, ICT, eccetera, quindi, un'altra evidenza, rispetto, terreno e costituzione, genetica, e abitudini e stile di vita, l'alimentazione, e lo stile di vita, incidono, quanto al cancro al seno, in modo, in modo accertato, di più, della familiarità, e della genetica, e quindi, è una bella notizia, secondo me, se anche siamo figli e nipoti, di donne che hanno avuto un tumore al seno, noi, mangiando meglio, ce ne facciamo un bafo, come diceva San Giorgio stamattina, il che è la nostra esperienza, da 25-30 anni, il consumo di cereali integrali, ribadisco biologici, legumi, verdure, alghe, che sono verdure di mare, ricchissime di nutrizionali e nutrienti, ortaggi e frutte di stagione, vitamine, contenenti vitamine, ma queste che ho citato, B2, B6 e folati, perché le cito? Perché proteine nell'intestino, ma perché l'oncologo, che ha fatto anche la storia dell'oncologia, sa che noi abbiamo ricevuto, io ho ricevuto degli anatemi, delle minacce di essere, radiata dall'algo, perché davo, almeno temporaneamente, consigliavo a problemi, a persone con problemi di questo tipo, o epatici, o malattie tumorali, vitamine del complesso B, non sintetiche, naturali, da lieviti plasmolisati, e ho continuato a sostenere, a fare questa cosa, sempre informando le persone, che stavo proponendo qualche cosa, rispetto a quale, la quale l'oncologia ufficiale, diceva che non si doveva fare, perché quelle vitamine sono fattori, che erano considerati fattori, pro proliferativi, e quindi, che potevano aumentare il cancro, e io, nel mio piccolo, ho fatto come hanno fatto, Zora, e gli altri, che hanno continuato ad andare avanti, per la loro strada, soprattutto, come posso dire, confortata dai risultati, che i pazienti, uno a uno, ci portava, e, un'altra cosa, la voglio spendere relativamente alla soia, provo ad andare avanti, forse l'ho scritta, non lo ricordo più, ah, qui ci arriviamo dopo, forse non l'ho scritta, l'altra cosa, è la soia e i derivati, la credo di citare da dopo, o prima, ecco, lì, mi ha raggiunto, soia e i derivati, proteggono le donne, dai tumori al seno e all'utero, e proteggono gli uomini, dai tumori alla prostata, è accettato, dagli studi, non da me, che le do da 25 anni, e le mangio da 30 anni, e le consiglio da 30 anni, alle persone, che prima venivano da me, come Shatsu, che è il medico scalzo, formato alla scuola di Shatsu terapia, secondo la medicina tradizionale cinese, di Maria Teresa Pinardi, che è stata la mia maestra, prima, di medicina tradizionale cinese, ma ha insegnato, la base basilare, di quello che soia energetica, e che da allora, mangio soia e alghe, oltre a tutti i resti, che mi hanno detto, e lo do da mangiare, anche alle donne, che si alzardano, a provare a mettere in pratica, quel che dico io, quando gli oncologi, dicono che assolutamente, non devono mangiare la soia, e se hanno avuto, un tumore al seno, un tumore all'utero, o se stanno lottando, per contenerlo, o quello, e sottolineo soia e alghe, perché, che lì non so, no, scritto sotto, perché la endocrinologia, sapete, quando c'è una insufficienza funzionale della tiroide, un ipotiroidismo, dice che non si deve mangiare la soia, e che anzi, mangiare troppa soia, contribuisce a spegnere la funzionalità tiroidea, infatti, noi sappiamo, dall'epidemiologia, di, quando io facevo l'università, nell'altro millennio, oltre che nell'altro secolo, San Giorgio, più vecchio di me, è, eh, 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 bene, no, perché senza di lui io non sarei qua, quindi lui è sempre, nella stessa stringa, quindi, nella stessa ragnatea, c'è sempre San Giorgio che goncola, e io che goncola, a farti questo, le incolliaghe, perché noi abbiamo imparato, e tutti noi, non solo io e lui, dall'epidemiologia all'università, che le donne orientali, cinesi e giapponesi, che consumano, moltissima soia, ammalavano, ma spacciatamente di meno, di tumore al sene, tumore all'utero, e però trasferintesi in America, assumendo progressivamente, le abitudini alimentari statunitesi, in poco tempo, entravano, nelle percentuali, di morbidità, di ammalare, per questi tumori, e però, le donne orientali, sì, mangiano molta soia, ma mangiano anche le alghe, noi sappiamo, che nelle alghe, ci sono, tutti gli aminoacidi essenziali, tutti, come nelle cosiddette, proteine nobili, della carne rossa, che è controindicata, per chi vuole prevenire il calcolo, che va abolita, per chi ne è affetto, e vuole guarire, almeno finché non è guarito, e, tutti gli aminoacidi essenziali, tutti gli oligo elementi del male, quindi, lo iodio, ma lo iodio, organizzato, in orchestra, con tutti gli altri oligo elementi, in una forma, di nutrizione, della foglia, del vegetale, più antico, con cui le nostre cellule, noi, prima, batteri, poi, microrganismi, poi, quello che siamo diventati, abbiamo avuto rapporto, quindi, il nostro giardino, il nostro orto, da cui, da sempre, da milioni, di milioni di anni, noi animali, mangiamo verdure, è cominciato, con le alghe, le alghe, vogliono stare con la soia, se le alghe e la soia stanno insieme, si ha la prevenzione dai tumori, non c'è nessun problema, di tiroide, né in eccesso, né in difetto, ma c'è un'ottima modulazione, dell'attività tiroidea, che sopporta, c'è un obbilele post-Cernob, che sopporta, gli stress, della crisi economica, e della gestione, come posso dire, scivaita, che i governi europei, fanno, della trasformazione, dell'organizzazione, scivaita, della trasformazione, dell'economia organizzativa, dell'organizzazione sociale, economica, delle nostre nazioni, ecco, sopportiamo, i nostri tiroidei, sopportano questo stress, grazie, secondo me, per me almeno, a questi apporti. Ed è arrivato il giovane Walter Rombo, un grande biochimico, giovane, calabrese, che lavora a Los Angeles, che viaggia per tutto il mondo, che lascia interviste per radio, per tv, per i giornali, ci chiediamo qual è, e di solito non lo dice, io non l'ho capito, lui ha fatto una fondazione, riceve sicuramente dei fondi, con questa fondazione, che gli permettono di essere così visibile, io gli sono gratta, perché lo scienziato, come è scritto, che ha rivoluzionato, vi propongo di leggerlo comunque questo libro, perché è interessante, che ha rivoluzionato le scoperte, e ha scoperto, e propone, diffonde la dieta della lungilità, e qual è la dieta della lungilità? Una sana dieta mediterranea, antica, lo scrive lui, io ho riportato cose dal suo testo, lo scrive lui, cioè, ha scoperto, ha scoperto, ha fatto la scoperta che ho fatto io, ma ho avuto meno fondi per diffondere, io ho scoperto l'alba calda, e lui ha scoperto l'alimentazione mediterranea, quindi, adesso vediamo se gli dà anche un po' di visibilità, comunque parte questo, gliela do io a lui, che sono, la diamo noi a lui, e, dice però delle cose interessanti, non si sperpica a dire, che tutta questa roba, mangiata bene, abbondantemente, masticata bene, come gli studi già dicevano, gli altri studi, quindi lui, non è che, conferma, ha, diciamo, la funzione di confermare, quello che già gli altri studi ci dicevano, e che noi sapevamo, però non si sperpica a dire, biologici e demasticati, non si legge, si legge solo da Berlino, quindi, io ho aggiunto questa parentesi, dice di mangiare pesce due volte alla settimana, e, e dice tutto il resto, detto io l'ho riportato, perché esattamente, il decalogo, parte del decalogo, e noi lo diciamo da 30 anni, perché noi seguiamo a scuola, una cosina nuova, fra virgolette, anche noi lo diciamo, però che sembra nuova, consumare tutti i pasti della giornata, nell'arco massimo di 12 ore, vuol dire, che non è che uno può, si può concellare, si affra la mattina, mangiando, bevendo un caffè, mangiando una cosina, poi salta il pranzo, perché ha l'affare, poi dopo la cena, no, fa l'aperitivo, fa l'aperitivo, poi vai in palestra, oppure vai a concerto, oppure poi torna a casa e cena, verso le 11 e mezza, va a letto a luna, e si alza alle 7, e riprende il caffè, la brioche, il barco, i grassi, transitrogenati, non si può, ma non si può, non conviene, neanche se mangi, l'ostia, benedetta, la mattina, a digiuno, con l'acqua, in ginocchio, e poi se mangi, l'alga, del mar, dei sargassi, e della perla, della benedizione, della perla nera, e le ricette, nemmeno quello, non conviene, conviene avere, un periodo, quindi in altre parole, di almeno 12 ore, di stop, di assenza di lavoro, di digestione, assorbimento, assimilazione, una pausa, tramonta il sole, lasciamo tramontare, la fatica del lavoro, di digerire, quindi non dico, proprio tramonto, però 12 ore, su questo logo, io gli sono grata, perché è quello, che più chiaramente, ha focalizzato, su questa colla. Gli studi, sul digiuno periodico, di Longo, e molti altri ricercatori, accertano, che ha effetti benefici, se applicato, in tempi e modi adeguati, aumenta le difese immunitarie, antitumorali, la riparazione, dei tessutilesi, previene, le malattie metaboliche, croniche, e degenerative, riduce, l'obesità, e il sovrappeso, senza intaccare, i muscoli, e la massa maga, applicato correttamente, può, in corso di chemioterapia, aumentarne l'efficacia, contro le cellule tumorali, mentre si riducono, gli effetti collaterali, sulle parti sane, dell'organismo, e riduce, le recidive di malattia, per evitare, i rischi, e le difficoltà, del digiuno, il professor Longo, ha messo a punto, una dieta, mima digiuno, cinque giorni, un periodo, di cinque giorni, a ridottissimo apporto calorico, ma con pasti abbastanza abbondanti, in volume, a base di verdure, legumi, frutta guscio, cioè semi oleaginosi, e un integratore, di omega 3 e 6, i periodi, di cinque giorni, mima digiuno, con entrate e uscita, calibrata dal ciclo, possono essere ripetuti, a seconda dei casi, ogni mese, in caso di obesità, e sovrappeso, o in corso, di malattie degenerative, croniche, anche tumorali, naturalmente sotto, strettissimo controllo, medico, oncologico, specialistico, e o ogni 2, 3, 4 mesi, in caso di remifasi, di remissione di malattia, o ogni 3, 6 mesi, nel soggetto sano, normo peso, in buona salute, che vuole fare prevenzione, e ottenere anche una rigenerazione, un ringiovanimento. Ma ci sono controindicazioni, importanti, il digiuno e il semidigiuno, e quindi anche la dieta mima digiuno, protratti oltre un giorno, non vanno fatti, in caso di gravidanza, durante l'allattamento, fanno male se si è deboli, magri, o in chi soffre di anoressia, non possono essere associati, è pericoloso associarli, ai farmaci antidiabetici, ai farmaci che riducono la pressione alta, e in generale non conviene fare questi periodi, mentre si prendono farmaci, ma in caso di sospensione dei farmaci, deve esserci l'approvazione del medico, e bisogna essere seguiti per questo. È pericoloso, nell'anziano, oltre i 70 anni, e a meno che non ci sia un'obesità, o un sovrappeso, e il geriatra, il nutrizionista, possano indicare questo approccio, e seguire la singola persona. Quindi, ogni singola persona, deve essere accompagnata in questo, da esperti qualificati, che calibrano il lavoro sul soggetto. Ci possono essere capogiri, svenimenti, quindi è bene non guidare auto, mezzi meccanici, e questo può succedere più facilmente, per esempio sotto la doccia, se si fa una doccia calda, quindi è bene non farlo, se si è da solo in casa, quando si fanno questi periodi. Ecco, non di solo cibo, si attua, o si perverte, o si violenta, la prevenzione. Sì, l'obesità, l'alimentazione pro-infamatoria, la sedentarietà, lo stress psicofisico-cronico, e quindi la coscienza e gli stati mentali, da cui derivano delle conseguenze molto concrete, che conosciamo tutti e sentiamo, rigidità muscolare, che comporta una minore circolazione energetica, due, mediane, le vie. Ma, cosa ha detto Carlo? Portiamo queste cose, io Carlo lo amo perché, intanto perché ha questo, ancora lo fa sentire i suoni, va bene, ma lo amo perché, è semplicemente arrivato dopo 30 anni, anzi 32, che ce ne occupiamo, a dire scientificamente quello che noi stiamo praticando, provando, facendo, mettendo in comune, da allora. Cioè, se vogliamo che i segnali circolino, che l'energia circoli, che questa armonia di fase che si sviluppa in tutte le nostre molecole sia libera di mettersi in fase, bisogna avere meno rigidità possibile, se siamo contratti nei muscoli rigidi, la struttura somiglia sempre di più a un tavolo, un pezzo di marmo, c'è poco da mettersi in fase, non c'è quella armonizzazione, quella risposta, sono quella generazione di vibrazione che avvicina a chi vibra come noi, che accorpa, che unisce, che genera e diffonde armonia, unione, collegamento, connessione, senso di appartenenza, senso di non solitudine, sicurezza, senso di sicurezza. Posso essere da solo ovunque, posso non avere niente in tasca, posso non contare niente, non essere nessuno. So, sento, che risuono con tutti gli altri esseri e se mi scivola un pezzo di qualcosa, un'auto che vibra come me mi aiuta a tirarlo su, non c'è problema. Questo è se ci manteniamo morbidi, rilassati, e se cerchiamo e pratichiamo e applichiamo e pratichiamo costantemente le cose che troviamo utili, efficaci, praticabili per ognuno di noi, perché c'è quello che, ripeto, che si rilassa e si detende ballando il kankan e c'è quell'altro che si rilassa facendo yoga e c'è quell'altro che fa un movimento rigeneratore, eccetera, eccetera. Quindi, la rigidità da cui derivano tre, cinque motivi cronici, coscienze, stati mentali alterati, disfunzioni neurolegetrative, riduzione della comunicazione, in quel senso di oscillazione, di vibrazione, di risonanza, di segnali che vengono ottusi bloccati tra noi e noi e tra noi e gli altri, tra noi e l'ambiente, con alterazioni della percezione sia proprio eccettiva che tra coll'esterno, quindi possiamo sentire delle cose che ci spaventano ma che sono proiettate dalla nostra rigidità e paura. Noi possiamo leggere nello sguardo, nelle parole o in un gesto che fa un'altra persona qualcosa che risponde a una nostra paura e rigidità e blocco interiore, interpretarlo come minaccioso, reagire aggressivamente con violenza e questo, credo sia quello che succede quando accadono episodi violenti. Non è che ci sono i buoni e cattivi, le persone violente e le persone non violente. Non siamo diversi. Io non sono diversa da quello lì che sfigura con l'acido o da quell'altro che uccide quando per motivi futili se non per motivi addirittura crudei. Non sono diversa e se non sono diversa io non siamo diversi nessuno, siamo tutt'uno. Come accade? Applichiamo le cose che scientificamente abbiamo visto, trovato. Applichiamole a cercare di rispondere a questa domanda. Accade perché ci sono rigidità, blocchi della percezione, della ideazione, ci arrivano dopo, dell'emotività, del modo di reagire che fanno sì che si possa anche diventare violenti sulla base di un terrore, di uno spavento che il più delle volte è negato. Non sappiamo di avere. Quindi occuparci di allentare le nostre contratture muscolari oltre che di migliorare l'alimentazione ha come effetto di aumentare la nostra energia a disposizione della possibilità di cambiamenti, quelli che più ci piacciono. Perché quanta energia teniamo bloccata nei muscoli tirati, quanta forza spendiamo lì, quanta stanchezza accumuliamo. Se noi lavoriamo costantemente come ci laviamo i denti, come puliamo via lo sporco e l'acqua prima ancora che il sapone lavano via e risettano le energie distoniche, i blocchi che impediscono l'oscillazione armonica e l'armonizzazione. Basta passare sotto l'acqua e ci risettiamo, cioè molliamo e ci rimettiamo a risuonare. Così come ci laviamo, così come laviamo i denti, dovremo quotidianamente o quali praticare tecniche di detensione della contrattura. nei tanti modi della contrattura che accumuliamo abitualmente nel vivere, nello stare in piedi, nel faticare, nel forzare rispetto alla stanchezza, nell'adattarci a fare cose che non subito vorremmo fare o forse mai ma ancora per un po' sì, eccetera, eccetera. E qui arriviamo a cosa c'era prima di questa? Quella che c'era prima, perché ogni tanto mi smittano via e siamo nel bel cuore di quest'altra branca della scienza interdisciplinare america che è la psiconeo-endrofia nebulologia già citata che non è nuova neanche lei. Quelle connessioni che avevamo visto infiammazione si è visto dalla Tunei dice che l'infiammazione è correlata alla depressione dice anche che l'infiammazione è correlata al cancro e dice anche guarda caso la psico-oncologia che la depressione e il cancro sono correlati ma la depressione prima di tutto è depressione di disponibilità energetica di possibilità di cambiare modo di reagire e ritorno a ripetermi non mi ripeto quello che ho appena detto quindi ruolo centrale lo dicono gli scienziati le ricerche hanno la gestione dello stress e delle emozioni non solo i fatti che succedono come noi li gestiamo queste condizioni e dimostrano e dimostrato che le tecniche di detenzione e le pratiche di meditazione funzionano sono utili resetano il sistema neurovegetativo permettono di avere maggiore resilienza ci fanno essere più capaci di sostenere lo stress eccetera eccetera quindi sono a tutti gli effetti con evidenza pratiche che costano poco o niente a parte il nostro tempo e la nostra volontà di sperimentarle e di continuare l'esperienza è che più lo facciamo più viene facile e più risulta piacevole e meno ce le prenderemo da una vision positiva le buone abitudini veramente poi non si perdono man mano che le si pratica vi suggerisco di cominciare se fate fatica è lo stesso smettete quando vi siete scocciati forse anche dopo un secondo e ricominciate però a farlo almeno il giorno dopo non più tardi del giorno dopo punto questo è la meditazione è questo stare con se stessi ascoltare cosa c'è non distrarci con dei movimenti con delle cose finché non siamo così allenati che possiamo meditare anche lavando i piatti masticando cagando trombando eccetera eccetera lavorando ma finché non siamo allenati fermi ascoltare cosa fa dove va il respiro da solo cosa sentiamo dura io quando ho iniziato duravo 3-4 secondi perché la prima cosa che ti si presenta ad un'ansiosa con la rellansia ti fermi e cosa ascolti l'ansia mi dovevo muovere però il mio primo maestro è stato in italiano non ti preoccupare non c'è un tempo c'è che stai finché puoi quando diventa uno sforzo smetti perché lo sforzo non è lasciarsi essere osservare ascoltare senza far niente né giudicare eccetera quindi ascoltarsi fermarsi ascoltarsi per un tempo finché ci va finché possiamo e rifarlo e rifarlo e poi ecco questo libro è un libro bellissimo che qualcuno molti conoscono bellissimo perché raccoglie molte di queste indicazioni di queste esperienze in modo pratico è uno psichiatra David Servan che è passato attraverso questa esperienza recidivata di malattia tumorale con tutta una serie di cose che ha sperimentato e che da ricercatore da scienziato a da medico comunque scusate che sa e vuole utilizzare i risultati della ricerca e della scienza li traduce e li rende devo dire che questo è molto bello allora la meditazione secondo la società italiana di 5 neuroendocrine immunologia secondo nel senso che quello che si sa che è ufficiale è che dati riportati all'ultimo congresso della PNEI a Roma recentemente in ottobre dove non sono stata ma è andata e ne ha relazionato Lucia Berardi che poi è citata negli Stati Uniti è riconosciuta la meditazione come quarta forma di terapia dopo quelle ufficiali e con effetti documentati specifici di diminuzione del dolore dell'ansia della depressione dello stress noi sappiamo della mala reazione allo stress e miglioramento dell'umore e dell'autostima cosettine che sicuramente sono utili se siamo parlati di tumore anzi direi indispensabili perché con una diagnosi di tumore lo stress è a 6.000 e la contrattura è a 8.000 e di conseguenza ansia depressione dolore umore e autostima nella merda quindi in quella fase lì che è una misura scientifica precisa internazionale in quella condizione è indispensabile però quante altre situazioni chiedono di migliorare questi aspetti per cui vale per tante altre cose come tutte le malattie croniche dove ci sono dolori il perdurare del dolore genera depressione l'ansia che questa cosa perché genera spesa energetica spendiamo energia più energia spendiamo meno ne abbiamo da parte meno ne possiamo disporre più ci sentiamo in pericolo più ci spaventiamo si svuota il rene riconosce l'energia di Cacinese sa che la paura trabocca e più è in vuoto rene su rene più la paura è smisurata noi abbiamo delle pratiche noi la medicina tradizionale la naturopatia ha delle pratiche di una semplicità assolute di un'efficacia verificata collaudata mai smentita come l'impacco di sale caldo sulla zona lombare il peniluvio caldo col sale e lo zenzero che ricaricano l'energia della loggia acqua rene su rene che riducono lo stress l'ansia la depressione e la paura anche quando generate da una diagnosi di malattia tumorale non so quale quarto vinto sesto grado quindi vi prego di prendere seriamente in considerazione la possibilità di dotarvi di questo manuale di pratiche naturali collaudate che l'associazione distribuisce e che cava laggiù e di regalarlo per Natale e regalarne una copia al vostro medico di base per favore per favore fatemi questo regalo di contributo di 10 euro e gli stati mentali li ho citati c'è questo state of mind 2015 maestro questo aziente occorre c'è un articolo specifico snupi ma gli stati mentali avanti ecco in occidente nel 1996 Lucia Berardi che è citato psicologa prima che psicologa economista poi doppia laurea in psicologia poi maestra di yoga dopo essere stata a lungo alleva di un maestro indiano maestra e praticante di meditazione nel 1996 insieme a Paolo Lunetti per le edizioni andromeda ha pubblicato questa dispersina che non si trova più credo di mi ricordo se 12 pagine su quello che si sapeva già allora in occidente di meditazione c'erano già degli studi nel 1996 ebbene non vi sto a dire vi do dei link però vi voglio dire delle cose di cui sono veramente ingrate credo che sarei standa qui anche solo per far vedere queste tre cose aver trovato queste tre cose e cioè che chi vuole venditare in gruppo e non da solo ed essere seguito può farlo gratuitamente per la disponibilità dell'associazione di colibri di Lucia Berardi che raccoglie questi gruppi il venerdì pomeriggio free ci volete andare mi mettete in contatto nessuno vuole niente se volete dare un'offerta a un'altra se no no fatelo c'è un progetto di ricerca grosso conosciuto Pagliaro tutti che l'avete sentito a seminare si insegna dell'aria il Tom Len che è una meditazione buddista specifica dove la sofferenza dell'altro la prendo su di me e la distribuisco in modo che si diluisca e che possiamo avendolo a tutti soffrire di meno se vogliamo un attimo prima in on ride è possibile seguire corsi e conferenze di Marina Boruso che da 35 anni insegna meditazione attenzione liberale questa presenza è la maestra che traduce ha tradotto in Italia i libri di Eckhart Tolle sul potere della presenza è una grande io in sua presenza due volte nella mia vita tre l'ho incontrato ho avuto dei palzi ascoltando le sue parole nella mia piccola capacità di essere cosciente di me veramente impressionante così come quando ho scolto Carlo a parlare mi si apre il cuore mi sento diventare generosa un arcano come un'impresente di questo cangio lo scienziato che è lui e avanti questi sono dei link li troverete sul sito e li rimetteremo subito io questa relazione la posso caricare subito sul sito le diapositive quindi se andate poi sul www.utin.org potrete cliccare vedere gli articoli avanti quindi prevenzione cura guarigione e energia il discorso che abbiamo fatto prima con Cristina Bonzante eccetera di nuovo riprendiamo tutta questa roba la ho semplicemente ricopiata avanti come fare in pratica a Bologna di nuovo CICU sapete che è una pratica di meditazione con movimenti meditazione dinamica con respiro di più o meno posizioni del corpo movimenti attitudini mentali è una meditazione psico-corporea interessantissima che noi utilizziamo tra le materie di insegnamento della scuola di naturopatia ebbene l'associazione CICU PIPO presieduta da Clara Belloni agopuntrice ginecologa di Bologna gratuitamente insegna il CICU vi mettete in contatto in quell'indirizzo lì ma non solo Bologna Zola Predosa l'associazione ha dimensione nazionale sul sito ci sono i link nelle varie città o luoghi dove sono attive queste cose quindi utilizzatelo per non essere sole e farvi guidare anche in termini di pratiche specifiche individuali personalizzate sull'assetto energetico della persona sulla costituzione individuale e avanti tornerò grazie fra le tecniche di detenzione e di equilibrio energetico quelle che tutti quelli che siete qui conoscete la riflessologia plantare manuale del dorso dell'addome del viso delle orecchie lo shatsu il doi 5 tibetani il tuinano il massaggio al iubetico il cico lo yoga l'affetto di grasa l'antiginnastica l'affetto domonare ma voglio dirvi pranoterapia reiki massaggio tibetano espressività creativa ci sono delle realtà dove si può praticare una una circolazione dell'energia dei sentimenti delle emozioni degli stati d'animo che possono se stagnanti inquinare turbare la nostra fisiologia la nostra capacità di guarire avanti visualizzazioni curative preghiera e filosofia faccio molto presto vi faccio vedere quattro titoli di libri dopo c'è un punto comune alla preghiera insegnata in tutte le tradizioni alla visualizzazione curative allo studio e alla filosofia che è una funzione fisiologica degli esseri umani se noi vai avanti qui ci sono possibilità di fare queste cose potete se noi manteniamo nel nostro schermo mentale immagini negative che ci spaventano se io sono ammalata e penso continuamente mi succede penso continuamente al mio male penso continuamente al mio dolore penso continuamente al mio organo leso penso continuamente al resto che torni la malattia penso continuamente a quelle scene a quelle cose a quelle cose per te ebbene purtroppo attrarò per quello che ci ha fatto vedere Carlo risuonerò nel mio corpo con le frequenze relative a queste immagini e pensieri disturbanti patologici dolorosi consumerò energia mi spaventare e continuerò a mantenermi spaventate a predispormi a realizzare quelle condizioni la cui immagine mantengo nel mio immaginario ebbene non possiamo impedirci di sentire paura di vedere un pensiero negativo vi propongo di utilizzarlo come segnalino come sveglietta che suona per cogliere proprio quel momento per fare volontariamente un'immagine positiva di me o della persona per cui sono preoccupata sorridente buona salute felice affiancate affianchiamo continuamente alla percezione del dolore al ricordo del dolore alla paura tutte le volte che salgono che sorgono nello schermo interno della nostra esistenza della nostra coscienza affianchiamo ogni volta un'immagine di noi sorridenti felici che stiamo bene o della persona che amiamo e che vogliamo che sia felice e stia bene e sia volita questa è la pratica che insegna Gesù quando insegna a pregare tutti gli altri se voi pregate dite il rosario dite il mantra pensando al vostro povero amore smudellato di flebo di cateteri e di drenaggi che non si sa se ne risponderà ancora o se passerà finalmente a miglior vita per lui e subito dopo per voi se voi pregate con questa immagine improntate delle frequenze di questa immagine le vostre molecole le vostre mole risonanti e il campo morfogenetico che dà la forma alla realtà per cui prendiamoci questa responsabilità di ogni volta che sorge un'immagine negativa affiancarle quantomeno come neutralizziamo l'iperacidità con le basi con i minerali basificanti neutralizziamo le immagini negativi con un'immagine positiva questa è preghiamo vedendo la persona soridente che sta vedendo io ho preparato questo il corpo racconta è un libro che insegna come funziona il corpo umano e anche le sue valenze psicosomatiche quindi a cavallo con l'acnei della Maria Cuscento che è un insegnante della nostra scuola Zero Image trasmette in modo semplicissimo la filosofia e la spiritualità avaiana degli indigeni avaiani aloha sanoa amore danze oscillazione modulazione efficacissima io la pratico e chi la pratica me lo conferma il sentiero del risveglio interrore non ha un interiore è una via più occidentale più complessa più articolata più europea più intellettuale ma esoterica Eva Pierranco sedano a me non canalizzava delle lezioni di questa guida spirituale se vi va leggete io ho trovato grande coraggio mi ha dato molto coraggio nell'intraprendere questa via di unione amorevole con me stessa accettazione degli estati accoglienza di me qualunque sia la realtà del momento accogliermi crescere nell'amicizia nell'amorevolezza per me e vedere cosa si può fare da questo da questa fase cosa posso fare momento per momento in caso di il prontuario e la pubblicazione di cui vi ho parlato vi ringrazio e chiudo scusa forse c'è un'altra cosa esatto se vi sentite smarriti nel sostegno nel volervi conoscere nella vostra individualità nella vostra costituzione nel voler modulare il vostro terreno e vi sentite soli e bene gli operatori naturali del benessere olistico formati a questa nostra scuola che esiste dal 2000 sono elencati in ordine di città e di provincia nel sito della scuola sono in grado di accompagnarvi in questo percorso secondo questi critetti grazie